Ciao ragazzi, in questo nuovo video, allora ragazzi, scusate se ho la voce un po' strana e che ho raffredduto e poi sono le sette e mezza di mattina e non sarò a scuola perché mi dovevo dividere, quindi quattro ore non le passo a dividermi, sono le dalle 5 perché non ho dormito per colpa di questo raffredduto, cacchio, tipo il naso, era come se teniamo una palla su una tazzetta, ma comunque, ragazzi, io penso che voi sapete che giorno è oggi, 10 maggio, e ragazzi, è l'inizio di 10 giorni del rilascio della versione di Minecraft Pocket Edition 9.0 Alphabull 1. E i sviluppatori finalmente hanno concluso tutto e avevano detto già, io ho fatto un altro video che usciva dal 10 maggio, quindi dal 10, poi rispondeva uscire l'11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quindi ragazzi non si sa proprio, io ovviamente ogni mattina vado su Aptoide e vedo. Io spero che esce oggi pomeriggio oppure spero che esce domani, ma io lo spero veramente con il cuore che possa trovarmi sul telefono finalmente, gli endermen, gli slime, per fare tanti farm, bellissimi, mondo infinito, hardcore, overworld, una nuova dimensione che hanno messo in Minecraft Pocket Edition, ma non in Minecraft sul PC. Ovviamente quella caverna non è infinita, ma è una palla gigante, quindi si può prendere pure la lava, la, sta tanta lava, e poi tanti minerali come ferro, carbone non finire, ferro non finire, oro non lo so, diamanti penso, redstone, e niente. Grazie, voglio parlare anche di una cosa, un canale che si chiama MMG Driver, se non mi sbaglio, i suoi video che fa su Minecraft Pocket Edition sono Falk, sono Falky, che cazzo sto dicendo, sono Falky, mio Dio ragazzi, vuole dire fake, però ho detto falsi, ho detto Falky, sono Falky, perché ragazzi, lui usa una texture, cioè non una texture, un file zip, se non mi sbaglio, e quindi ha cambiato Minecraft, ho molto Minecraft zippato, non ho capito, è anche un fake, che praticamente fa vedere che la redstone, i binari, sono diventati redstone, non so quali voi, quali, come ha fatto, c'erano i villager, c'erano i enderman, c'erano i slime, c'era lo spawner di creeper, ragazzi, non so come ha fatto, perché ragazzi, è strano, perché ho visto che lui le aveva chiuse in gabbia, l'enderman, lo slime, e il lupo, anche il lupo, ho visto, poi è stato un movie block, come la casa, ha fatto vedere il deserto, ragazzi, comunque, come il tavolo degli incantesimi, è falso, perché potete vedere che sul pc, il libro si alza dal tavolo, invece lì, il libro è sopra il tavolo, c'è proprio schiacciato sopra, come tutta una figura piana, tutto così, senza il libro che c'è fuori. La staffa del re-brewing, no, per le pozioni, l'arambico, non l'ho mai visto, sia stato a terra, oppure almeno me lo sono perso, e non ci ho fatto caso se era un fake o no, poiché più. E niente, ho fatto vedere i villaggi, le piramidi, le piramidi poco ci credo, però spero che verranno aggiunte. E niente ragazzi, aspettiamo che esce questa nuova versione, se non siete iscriviti, iscrivetevi, lasciate un mi piace per me, grazie. Commentate, fatemi qualche domandina nel prossimo vlog, risponderò. Anzi, farò anche nuovi video come, per esempio, piccoli tutorial su collezioni, giochi di carte. Scusate ragazzi, dovevi? Faccio qualche bella domanda, che ne so, tipo, faccio vederlo abbastanza, qual è il telefono preferito, se farai qualche partita insieme agli altri, vedete voi, chiedermi tutto quello che volete. Io vi risponderò nel prossimo vlog. Ciao ragazzi, iscriviti, commentate. Condividete, mettete un bel like. Ciao ragazzi, e al prossimo video.